Safti Perugia, partita che si sta mettendo su altri binari ancora più veloci rispetto a quelli del primo set amici ancora per uno, 14-13 adesso per Modena, Ivan Zeiss, De Cecco, sbagli il tocco da parte di Anzani non so, è stata una carambola, non ho capito bene come ha potuto fare 14 pari, ride Ivan Zeiss abbastanza, sì, questa sicuramente la metteremo su come pillola Anzani aspetta, tocca il pallone colpito con il sinistro, eccolo lì e vedete che nella palla precedente, in quell'attesa di De Cecco, poteva essere per Anzani dove Russell poi ha cercato di sporcarla dall'altra parte